E ci stavo cercando una casa in affitto, ho visto un cartello dove è scritto affittaci e poi ho preso la foto, ho chiamato col signore, il proprietario della casa, mi ha dato appuntamento subito e l'ho aspettato una mezza oretta e arriva il signore, mi chiede ma lei è di Sulmona? Allora dico di sì, mi dici ma lei che lavoro fai? L'ho detto io faccio la barista e poi così direttamente mi hai detto lascia stare, e ho capito perché il suo uomo nero non mi voleva affettare a casa, così mi hai detto no 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 lascia stare, lasciamo così, lasciamo stare, e va bene ti ringrazio, ciao buona giornata. Dopo mi sono rimasto un po' male però non l'ho tenuto in cuore perché ci siamo tanti su questa terra, ognuno ha il suo comportamento, almeno anche se lui mi affidava la casa, non è che occupa la casa sua senza pagarla, lo pago ogni mese perché me l'hai affittato anche se sono nero, però non è un problema, intanto siamo tanti sulla terra, mi sono fatto una risata e mi sono andato via.